Nasce in provincia di Salerno l'AGL, Associazione Giornalisti Locali, intitolata Lamberti Sorrentino, figura illustre del giornalismo italiano nato a Sala Consilina nel 1899. Un nutrito gruppo di giornalisti salernitani, costituitosi appunto nell'AGL, vuole promuovere e diffondere il ruolo e le attività dei professionisti dell'informazione che operano sul territorio locale della provincia di Salerno. All'associazione, nata da pochi giorni, hanno già aderito 40 giornalisti locali, con lo scopo di avviare incontri che approfondiscano temi legati al giornalismo, che coinvolgano la società civile attraverso dibattiti e ogni forma di comunicazione in grado di stimolare curiosità, opinione ed una maggiore coscienza critica sui media e sulle modalità d'uso tra i lettori. Ma l'associazione Lamberti Sorrentino è assolutamente aperta alle adesioni di quanti operatori dell'informazione vogliano iscriversi e farne parte, dando il loro contributo. L'associazione nasce per contribuire, promuovere e diffondere una corretta informazione su quella che è l'attività giornalistica, soprattutto a livello locale, legittimando il ruolo di professionisti che spesso si confrontano invece con una scarsa considerazione ed un disequilibrato riconoscimento professionale e sociale da parte della società civile. Scopo primario è quello di affrontare ogni problematica relativa alle difficoltà per i giornalisti di svolgere la propria professione, per i cittadini di essere correttamente informati e per il mondo dell'editoria di continuare a svolgere una funzione sociale ancorché economica.